Questa volta nessuna indiscrezione, ma subito l'ufficialit, con un comunicato di Kensington Palace, la residenza del duca e della duchessa di Cambridge, si è annunciato che gli amatissimi William e Kate stanno aspettando il loro terzo bambino. Elisabetta si detta molto felice nella nota si legge che la regina Elisabetta II, come entrambe le famiglie dei due, ragazzi, siano molto felici di questa notizia. Forti nausee come per le sue due precedenti gravidanze. Anche per questa Kate Middleton sta soffrendo di iperemesi gravidica, ovvero forti nausee e conati di vomito, che per Charlotte l'hanno costretta anche a un ricovero ospedaliero. Sospesi al momento tutti i suoi impegni ufficiali. Primo fra tutti la visita che avrebbe dovuto compiere oggi all'Orncy Road Children's Centre di Londra, appuntamento a cui la duchessa teneva moltissimo. La nascita di George e anche il 3 dicembre 2012 la famiglia reale diede l'annuncio ufficiale della gravidanza della duchessa, specificando l'avvenuto ricovero per iperemesi gravidica e il 22 luglio 2013. La duchessa diede alla luce George Alexander Lewis, diventato nel tempo una vera celebrit sui social, e quella di Charlotte poco dopo un anno. L. 8 settembre 2014 la famiglia reale annunci ufficialmente la seconda gravidanza della duchessa. E il 2 maggio 2015, Kate diede alla luce la secondogenita Charlotte Elizabeth Diana.